Ciao ragazzi della Paranormal Investigation, oggi sono qui perché mi è arrivato un video di una bambola che sta letteralmente terrorizzando il web, ha già un aspetto inquietante già di suo e questo video è stato pubblicato da una ragazza su TikTok il 26 settembre e guardate cosa succede in questo video, è veramente terrificante come vedete la ragazza afferma di aver visto la bambola muoversi ma potrebbe essere un semplice movimento del pavimento, un semplice movimento di qualsiasi altra cosa ma quello che succede poi dopo comincia a farsi sempre più terrificante ed la ragazza mentre stava lavorando al suo computer vede e sente soprattutto una cosa molto molto inquietante come avete appena visto la porta si è chiusa da sola adesso dico a voi una coincidenza, il vento o forse quella bambola molto inquietante che era in casa dei suoi nonni, tant'è vero che la ragazza dopo questa cosa della porta vede un'altra cosa e decide di non andare mai più in casa dei suoi nonni perché veramente quello che state per vedere è qualcosa di inspiegabile ad oggi non riesco a spiegarmelo nemmeno io ma questa bambola è inquietante perché questa ragazza afferma anche lì che in quella casa ci sono degli oggetti maledetti tra cui questa bambola adesso andiamo a vedere quello che è successo perché poi la ragazza è letteralmente scappata scappata dalla casa dei nonni e non ci è tornata anche gli westerni spiegarbano ha un punto che al massimo ci sono state ейчас ancora praticamente vediamo watch abbiamo appena visto questa ragazza è scappata dalla casa dei nonni non è più tornata perché a mio avviso quella bambola è una bambola maledetta voi cosa avreste fatto? questa storia è sul web da molto tempo cioè da da molto tempo da un mese circa che c'è questa storia sul web di questa bambola che sta terrorizzando tutti i social la stanno pubblicando tutti e è una bambola molto interessante molto curiosa molto inquietante ed è una bambola che si muove da sola quindi sicuramente è infestata da qualche spirito comunque anche per questo mini video per continuare lo speciale Halloween dalla Paranormal Investigation è tutto ci vediamo per i video in esterna quindi ragazzi rimanete connessi mettete mi piace commentate e continuate ad iscrivervi al nostro canale che sta crescendo veramente molto grazie a tutti ragazzi e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti Grazie.